Musica Drammatico incidente stradale a Mottola, due auto contro tir, in tre perdono la vita Nessun caso accertato in Puglia di coronavirus, pronta la task force della regione Due arresti a Taranto, sono sospettati di aver rapinato una banca lo scorso 7 ottobre In quella circostanza fu minacciato un'anziana con il coltello puntato la gola Sporto, Lecce e Capò a Roma, il Brindisi impatta con il Nardò a reti bianche, il Taranto ferma la capolista Bitonto Musica Buonasera, nuova edizione del nostro TG che apriamo con la cronaca Ovvero con il Drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo la Statale 100 Coinvolti un mezzo pesante, due auto, tre morti e tre feriti, il tragico bilancio E in condizioni gravissime il conducente del tir, il mezzo pesante oltrepassando il guardrail E finito nella scarpata hanno perso la vita invece i tre uomini a bordo delle due auto E' un bilancio pesantissimo quello dell'incidente avvenuto alle 6.30 di questa mattina Sulla strada Statale 100 nel tratto tra Motola e San Basilio nel Tarantino Sono rimaste solo lamiere contorte della Fiat Multipla a cartocciata Dopo il violentissimo impatto ha terminato la sua corsa a capovolta Invece la Fiat Panda fermata solo dal guardrail Duro lavoro per i vigili del fuoco intervenuti sul posto Insieme ai carabinieri della stazione di Motola I sanitari del soccorso 118 non hanno potuto nulla Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica del sinistro mortale Il tratto della Statale interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico E apriamo ora il lungo capitolo dedicato all'epidemia del coronavirus Che in queste ore sta tenendo banco più che mai Tra misure preventive di massima prudenza E' il timore che si diffonda sempre di più Una forma di psicosi che sta coinvolgendo le comunità E' la prima epidemia nell'era dei social Il coronavirus fa contare tre decessi al momento in Italia Terzo paese al mondo coinvolto dal covid-19 dopo Cina e Corea del Sud In Puglia, mentre scriviamo, non si registrano fortunatamente casi accertati Ma l'attenzione delle autorità sanitarie è quanto mai alta Si apre a Bari la task force regionale per monitorare il tutto con la massima competenza Intanto la comunità corre ai ripari con un senso evidentemente esasperato di prudenza Che invitiamo a non trasformare in psicosi, dicono gli esperti, siate oculati Ma non lasciatevi trascinare dal senso di panico che deriva per esempio dai social network Piuttosto, ricorda il Ministero della Sanità, siate attenti alle regole di base Che si seguono in genere per la comune influenza Va de me come facile da ritrovare nel sito nazionale Indicazioni semplici ma preziose da mettere in pratica giornalmente in famiglia e fuori Da lavarsi le mani, evitare il contatto con chi soffre di infezioni respiratorie Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, disinfettare le superfici di appoggio e altro Riferimento utile all'occorrenza il numero verde 1500 Rivolgendosi comunque al proprio medico di famiglia, primo front office del caso L'epidemia, manco a dirlo, è anche di tipo sociale ed economico Ed avrà un'incidenza sempre maggiore nella quotidianità di ciascuno Solo per citare alcuni esempi, i docenti e studenti che rientrano al sud Dovranno compilare un apposito questionario Mentre sono annullati tutti i viaggi di istruzione scolastica Le misure della Regione Puglia hanno esclusivamente scopo precauzionale Sono stati già allertati gli operatori sanitari di pronto soccorso e le strutture sanitarie La macchina organizzativa è in moto per evitare di ritrovarsi impreparati Le dinamiche psicologiche portano ad avere la massima prudenza in tutti gli uffici Compresi quelli giudiziari, come il Tribunale per i minori di Lecce Che impone che vengano adottate le misure di massima cautela e igiene Come da Vademecum ministeriale Per la comparizione di chi proviene da zone italiane o estere Dove si è registrato il focolaio Disponendo che si apponga sulla copertina dei fascicoli La stampa dello stesso Vademecum L'uso obbligatorio di mascherine nei casi a rischio contagio L'installazione all'ingresso dell'ufficio di un totem dispenser di genizzante mani Intanto conviene tenere a mente che la paura va combattuta Con le corrette informazioni e con le conoscenze scientifiche Mettendo in quarantena ogni tipo di polemica Cercando di essere utili gli uni agli altri Stretti da un comune obiettivo Il benessere collettivo E a Salice e Salentino Su iniziativa del sindaco L'ASL ha messo in quarantena la famiglia di un cittadino cinese Appena rientrato dal suo paese L'uomo però non presenta alcun sintomo Ma il primo cittadino ha ritenuto lo stesso Di applicare immediatamente il protocollo di sicurezza in questi casi Mi sono sentito in dovere di fare questo in modo precauzionale Affinché tutti i cittadini poi potessero stare tranquilli Che non c'è niente Un cittadino cinese da poco rientrato dalla Cina e la sua famiglia Sono stati posti in quarantena a Salice e Salentino Dopo che il sindaco Tonino Rosato Con un'ordinanza emessa nella giornata di domenica Aveva convocato il centro operativo comunale Per monitorare la situazione Nell'ambito dell'emergenza coronavirus Il cittadino cinese Che non presenta alcun sintomo influenzale Possiede un'attività commerciale A Salice e Salentino E il figlio frequenta la locale scuola per l'infanzia Era rientrato in Italia all'aeroporto di Brindisi Facendo scalo a Roma e prima ancora dalla Cina a Dubai Su disposizione dell'ASL dovrà restare per due settimane Presso la sua abitazione Dove verrà monitorato insieme alla sua famiglia L'ASL si è in mossa subito È stata predisposta alla quarantena Alla messa in sicurezza Quindi la situazione è sotto controllo C'è stata massima collaborazione da parte di tutti Tanto è vero Eravamo talmente tranquilli Ieri il carnevale si è svolto in modo tranquillo Non è stato sospeso Perché non c'erano condizioni Né motivi per poter sospetterlo Chiedo al Governo quali azioni abbia intenzione Di adottare per controllare il vergognoso aumento Del prezzo dei disinfettanti Ha dichiarato l'Onorevole Mauro Dattis Esponente di Forza Italia Che ha presentato una specifica interrogazione Al Ministro dello Sviluppo Economico Per chiedere anche quali interventi Si è intenzionato a prendere Affinché sia garantito l'approvvigionamento Ma anche la disponibilità di prodotti igienizzanti Tutto il sistema paese si è mobilitato Per diffondere le linee guida Per la prevenzione Ma anche il contenimento dell'infezione Del nuovo coronavirus Tra queste indicazioni C'è anche quella di igienizzare le superfici Non è possibile tollerare Dice ancora l'Onorevole Mauro Dattis Lo sciacallaggio Per il quale il prezzo della mucchina Nient'altro che candeggina diluita Lievita da 3 a 22 euro Non solo i negozi fisici Ma anche i grandi colossi dell'online Devono intervenire in maniera autonoma E a Taranto Le scorte di mascherine e guanti Contro il coronavirus Sono di fatto in esaurimento I supermercati sono ancora frequentabili E le vie restano affollate Tuttavia abbiamo contattato Tutti quei negozi Che vendono mascherine, guanti E gel igienizzanti per le mani Insomma tutto ciò che nel resto d'Italia E soprattutto al nord va a ruba Contro il coronavirus Anche nella città di Taranto Le scorte stanno per terminare Questi articoli vanno insomma a ruba L'allarme insomma spaventa Anche a queste latitudini E poi c'è chi si è inserito nel discorso Focalizzando l'attenzione Su una strage che viene definita continua Dalla politica all'associazionismo Si fa riferimento alle grandi fabbriche Inquinanti del territorio Attenzione le associazioni di volontariato Ci stanno segnalando tentativi di truffa Da parte di finti volontari Che telefonicamente o porta a porta Propongono test domiciliari sul coronavirus Il Dipartimento non ha dato disposizioni Di questo tipo e invita tutti A prestare la massima attenzione Lo scrive il Dipartimento della Protezione Civile Era previsto, cambiamo argomento Per la mattinata di oggi L'incontro tra la Colombo Biagio SRL E il comune di Gallipoli A causa del coronavirus I rappresentanti dell'azienda con sede in Lombardia Non hanno potuto raggiungere il Salento Era stata convocata per lunedì mattina Alle 10.30 La sesta commissione consigliare ambiente Al comune di Gallipoli Per discutere la vicenda legata Ai lavoratori licenziati da Gelplast e Colombo Per effetto di un'interdittiva antimafia Con una PEC inviata la sera prima Alle 20.45 La società Colombo Biagio SRL Che ha sede legale in Lombardia Comunica di non poter prendere parte All'appuntamento a causa del coronavirus Nessun responsabile Riuscito a partire per tempo Per raggiungere il Salento Riunione dunque rinviata A data da destinarsi Anche il sit-in del sindacato Cobas In programma sempre nella mattinata di lunedì Davanti al comune di Gallipoli E' stato rimandato venendo meno l'incontro Cruciale con i rappresentanti dell'azienda Intanto la Colombo Sembra intenzionata a ricorrere al TARA Per chiedere l'annullamento Della revoca dell'interdittiva antimafia Lo stesso TAR Il TAR della Lombardia Avendo l'azienda sede Nella provincia di Monza e Ibrianza Aveva disposto la sospensione Della stessa interdittiva antimafia prefettizia Intanto Gallipoli Futura Gruppo all'opposizione del comune ionico Capitanato da Flavio Fasano Attende la convocazione di un consiglio comunale monotematico Così come richiesto dallo scorso 30 dicembre Affinché il sindaco e la giunta comunale Si assumano le proprie responsabilità Sull'atteggiamento del lati Nei confronti dei lavoratori Cambiamo pagina Passiamo alla cronaca Grazie ad un dettaglio Apparentemente insignificante Gli agenti della squadra mobile di Taranto Hanno fatto piena luce su una rapina Compiuta nel centro cittadino Ai danni di una banca Presi i presunti malfattori Incastrato dalle toppe che aveva sui pantaloni E' stato questo il particolare Che ha consentito alla polizia Di identificare un rapinatore E' stata infatti ricostruita La dinamica ed individuati Presunti autori Di una rapina avvenuta Lo scorso 7 ottobre Ai danni di una banca Nel centro di Taranto Le indagini della squadra mobile Hanno consentito di raccogliere elementi Nei confronti di due persone Di 26 e 62 anni Già note alle forze dell'ordine Gli investigatori hanno delineato Le fasi salienti del colpo Utilizzando i filmati Delle telecamere di videosorveglianza Dell'istituto di credito Preso di Mira In particolare è stato ricostruito Il percorso fatto dal rapinatore Stando a quanto accertato Il 26enne armato di coltello Con il volto coperto Da un vistoso cappello E grossi occhiali da sole Entrò nei locali della banca E minacciò un'anziana donna Che in quel momento Si trovava allo sportello Costringendo poi L'impiegato di turno A consegnargli il denaro in cassa Il bottino fu di circa 400 euro Dalle indagini è emerso inoltre Che l'uomo aveva poi raggiunto Un complice a poca distanza Che lo attendeva in auto A bordo di una BMW Vano il tentativo del rapinatore Di far perdere le proprie tracce Cambiandosi gli indumenti Trascurando però i pantaloni Caratterizzati da quelle evidenti Toppe sulla parte posteriore Sono stati questi i dettagli Che hanno permesso così Ai poliziotti Di fare piena luce sulla rapina Nei confronti dei due È stata eseguita Un'ordinanza di custodia cautelare In carcere A seguito degli scontri Avvenuti verso le 12 e 15 di ieri Alla chilometro 153 Dell'autostrada A16 In carreggiata a sud Tra le tifoserie Del Bari e del Lecce La Digo su di Bari Ha sottoposto identificazione Oltre 90 persone Quattro sono state denunciate Si tratta di un Leccese E tre baresi I controlli hanno consentito Di identificare Complessivamente Dicevamo Una novantina Di tifosi E a rinvenire A sequestrare anche Due mazze da baseball Due manganelli Un taglierino Due paie di guanti Uno scaldacollo Una fusta I poliziotti Hanno quindi denunciato Per porto Senza giustificato Motivo Di oggetti Atti ad offendere Un tifoso Leccesi Di 35 anni E tre tifosi Baresi Di età compresa Tra i 39 e i 58 anni E sarà discorso Parliamo invece Della vertenza Ex-Aushan Mercredì prossimo A Taranto Il futuro Di 95 lavoratori Impegnati Nel supermercato interno Del centro commerciale Di via consiglio A Taranto Previsto anche Un vertice Tra aziende E sindacati Per discutere Proprio delle procedure Di licenziamento Collettivo Avviate Lo scorso 12 febbraio Abbiamo raccolto In tal senso L'appello Di alcuni Lavoratori interessati Continua a tenere In apprezzione L'avvertenza Che riguarda I lavoratori Del supermercato Del centro commerciale Ex-Aushan Via consiglio A Taranto Margherita Distribuzione Ed Hermes Hanno avviato Il 12 febbraio scorso La procedura Di licenziamento Collettivo Ed una richiesta Di cassa integrazione Coinvolte I 95 lavoratori Ritenuti In esubero Il 26 febbraio Prossimo Vertice A Taranto Tra sindacati E azienda Abbiamo incontrato Proprio dinanzi Alla sede Di lavoro I lavoratori E i rappresentanti Dei tre sindacati Dei tre sindacati confederali Noi siamo estremamente preoccupati E facciamo un appello A tutte le istituzioni Affinché ci possano dare una mano Per risolvere questa avvertenza E perché nessun posto di lavoro Venga perso Perché abbiamo colleghi Che lavorano Sono gli unici in famiglia A lavorare E c'è la necessità Che tutti continuiamo a lavorare Pertanto facciamo l'appello Anche alla nostra azienda Di poter Venirci incontro E di cercare Di salvaguardare Al massimo I posti di lavoro Che cosa Pensate Possa accadere Mercoledì Noi ci aspettiamo Il 26 Che l'azienda ci porti Un piano industriale Un piano industriale Che sia basato su investimenti E non su un taglio Del costo del lavoro Il nostro obiettivo È zero esuberi E continuità occupazionale Per i lavoratori Un'avvertenza Estremamente complessa Nella quale Noi ci sediamo al tavolo In maniera costruttiva Cercando di trovare Soluzioni E salvaguardia occupazionale Per tutti i lavoratori L'obiettivo E come hanno detto i colleghi È uno solo È quello Degli esuberi zero E ci sono tutte le condizioni Per poter fondamentalmente Raggiungere questo obiettivo Del resto È stato ribadito Anche il 3 febbraio L'incontro in regione Con la task force Dove anche Appunto Le istituzioni Hanno comunque Lasciato dei messaggi E degli spirali Anche dal punto di vista Di contributo Delle istituzioni Per raggiungere Questo obiettivo Passi in avanti A Taranto Verso l'istituzione Della zona franca Doganale Uno strumento previsto Nell'ambito Della Zessi Ionica Utile proprio Per favorire Gli scambi commerciali Nel porto tarantino E c'è stata Una importante riunione Nella sede Dell'autorità portuale Si è svolto Nella presidenza Dell'autorità portuale Di Taranto Il secondo incontro Del comitato di indirizzo Della zona economica Speciale interregionale Ionica Un ulteriore passo in avanti Affinché la Zessi Rappresenti davvero Un volano di sviluppo Per il territorio tarantino Del comitato Fa parte anche Il presidente Dell'autorità Di sistema portuale Di Taranto L'avvocato Sergio Prete Che ha tra i suoi compiti Quello di gestire E coordinare Le strategie Della Zessi Oltre che di promuoverla Sistematicamente E si parte proprio Dalla riunione odierna Per completare La fase di strutturazione Di tutti gli organi E uffici Previsti nel piano strategico L'obiettivo finale Da raggiungere È quello Dell'istituzione Della zona franca A Duganale Almeno per quanto riguarda Il porto di Taranto Come ha sottolineato L'assessore regionale Allo sviluppo economico Mino Borracino L'individuazione Di alcune aree Che potranno All'interno Della Zessi Utilizzare Ulteriori Elementi Spinti Di agevolazione Fiscali Come quello Della esenzione Dell'IVA E di altre tasse E pensiamo Da qui A qualche settimana Probabilmente Fra 15 giorni A riconvocare Di nuovo L'ufficio Di coordinamento Per individuare Le aree Da presentare Alla presidenza Del Consiglio Dei Ministri All'interno Del cantiere Taranto Che come ricordiamo La Puglia È fortemente voluta Con una nota A mia firma Del 13 novembre Che chiedevamo Al Premier Conte L'istituzione Di quello Che stiamo Per ottenere Vale a dire La possibilità Di ulteriori Agevolazioni Quindi la possibilità Di insediamento All'interno Del porto Di Taranto Ma noi pensiamo Non soltanto All'interno Del porto Di Taranto Con un'interlocuzione Positiva Con l'Agenzia Delle Dogane Di imprese Che possono Venire ad investire Con forti Agevolazioni Fiscali E ora parliamo Del vincitore Di Sanremo Di Odato Perché si è svolta Un'importante Significativa Cerimonia Taranto Taranto Ha espresso un desiderio Avere un Tarantino Vincitore Che si è esaudito Adesso Qual è il tuo desiderio Per la città di Taranto? Il mio desiderio È che si possa Lavorare tutti insieme Per un futuro Diverso Per la nostra città Perché Credo Taranto Abbia pagato Abbastanza In questi anni C'è C'è bisogno Di una Rivoluzione Vera e propria Spero si possa Lavorare tutti insieme Davvero Spero lo si possa fare Per i nostri cittadini Per Per i nostri cittadini Che non ci sono più Per i nostri operai Che non meritano Di andare Al lavoro Tutti i giorni Con questo Senso Con questo peso Sì Che devono portare Sulle spalle Quindi Davvero Credo sia arrivato Il momento Di pretendere Un futuro Diverso Per la nostra città Un presente Diverso Per la nostra città Perché Dobbiamo stare attenti A parlare sempre Di futuro Noi abbiamo bisogno Di una soluzione Adesso E Credo Abbiamo dato Abbastanza Quindi Ci vorrebbe Un intervento Dello Stato Importante E Definitivo Mi verrebbe Da dire Quindi Ringrazio davvero Per questo Per questo Per questo Ieri pomeriggio L'abbraccio del popolo Oggi Questo momento Più istituzionale Che ne pensi Questa taran Tu ti ha Riabbracciato Sono felice Di aver sentito Questa unità Nella mia città Perché Noi Viviamo in una città Il cui tessuto sociale È stato distrutto Da questa Guerra Tra poveri A cui ci hanno Costretti In questi anni Quindi Sono sicuramente Convinto Che ci voglia Un confronto costante Tra le istituzioni E la popolazione E credo Che uniti In qualche modo Possiamo Pretendere Una soluzione Consegna Del riconoscimento Assegnato dal comune A personalità Del mondo dell'arte Della cultura Dello sport E della scienza Che abbiano onorato La città di Taranto Con decreto sindacale Sentita La giunta comunale Il sindaco Melucci Ha deciso Di conferirla Proprio al cantautore Antonio Diodato Per la vittoria Della settantesima edizione Del festival di Sanremo Cambiamo argomento È stato celebrato A brindisi Nella piazzetta Loro dedicata Il ventesimo anniversario Della morte Dei due finanzieri Uccisi da un fuoristrada Contrabandiero Presente anche Don Luigi Ciotti Sono passati 20 anni Io diverse volte Sono venuto Nell'anniversario Il loro sacrificio È quello che ha permesso Una grande svolta È una risposta Massiccia dello Stato Che ha permesso In quella primavera Con una grande operazione Di dare Una bella Botta Al contrabando L'illegalità Alle forme di violenza E di corruzione C'è anche Don Luigi Ciotti Presidente nazionale Di Libera Alla celebrazione Del ventennale Della morte Di Tony Sottile E Alberto De Falco I due finanzieri Uccisi Durante un'operazione Anticontrabbando Il 23 febbraio 2000 Nei pressi Del santuario Di Iaddico La ricorrenza È stata onorata Nella piazzetta Dedicata Alle due medaglie d'oro Alla memoria Davanti a Palazzo Nervegna Presenti molti giovani Tra cui gli studenti Dell'istituto Ferraris De Marco Tra gli interventi Anche quello Del sindaco Del consiglio comunale Dei ragazzi Molto emozionanti Le parole di Edoardo Roscica Uno dei due finanzieri Sopravvissuti Ogni giorno È difficile Difficile per me Fermarsi Fermarsi e ricordare Ogni giorno Però bisogna andare avanti Bisogna andare avanti Per i miei figli Per i figli di Sandro Per Eleonora E per Danilo E per tutti Cercando di ricordare Che La strada giusta È quella della legalità Il Teatro Apollo Dopo tre anni Ancora circondato Dal bitume Nel 2016 Fu la stessa Capone A gridare Allo scandalo Era ottobre 2016 Quando si animò La prima polemica social In merito All'asfalto Gettato ai piedi Del Teatro Apollo Con il conto Alla rovescia L'inaugurazione Era prevista Per il 5 dicembre Dello stesso anno Arrivarono anche Le polemiche A causa dell'asfalto Che improvvisamente Apparve Davanti all'ingresso Del teatro Su Via Trinchiese Sull'argomento Intervenne anche Loredana Capone Allora assessore regionale All'industria creativa E al turismo Che postò Sulla sua pagina Facebook Una foto Dell'area incriminata Con un commento eloquente Dopo i 15 milioni spesi Un pugno Nello stomaco Che un gioiello Come il Teatro Apollo Di Lecce Non meritava Eppure Ce n'è stato Di tempo Per fare il basolato In questi 10 anni Di lavori sul teatro E invece Il benvenuto A cittadini E turisti Sarà dato Purtroppo Con il terribile Spettacolo esterno Davvero un peccato Scriveva In realtà La questione Era più complessa Il progetto originario Prevedeva La sostituzione Dell'asfalto Con il basolato Fino alla zona Commerciale Di piazza Mazzini Le casse comunali Però non ebbero Più soldi A disposizione Per cui Non sembrò Esserci alternativa Al bitume Speriamo Che l'amministrazione Corra subito Ai ripari Scriveva La capone Consapevole Del fatto Che il capoluogo Salentino Sarebbe andato All'elezione Amministrative Nella primavera Del 2017 E così fu Il centrodestra Andò a casa Ed arrivò Prima l'amministrazione Salvemini E dopo Salvemini Bis Ma il bitume È ancora lì A profanare Uno dei teatri Più belli Della Puglia Ed in attesa Che si trovino I soldi Per restituire Dignità A quel tratto Di centro storico Con il basolato Che si chiedeva In gran voce In precedenza Tutto fermo Insomma In attesa Delle godatorie Del bando Che permetterebbero Di accedere A dei fondi Era il nostro Ultimo servizio Vi ringrazio Dalla cortessa Attenzione Vi auguro Buona serata Grazie